Sì, no, era fuori gioco, credo, se ho capito bene, fuori gioco di Maxi Lopez sul cross, che poi c'è stato il blocco su Burdisso, mi sembra. Quindi, insomma, la VAR è molto utile, ci è toccata anche a noi contro il Bologna, quando è stato dato il rigore. Io penso che sia una bella invenzione, bisogna accettare, diciamo, le decisioni della VAR. Allora, sicuramente quell'episodio ha un po' svegliato i ragazzi, che erano partiti un po' contratti, e penso che poi dopo la partita è cambiata, sì, siamo stati bravi, faccio complimenti, insomma, alla squadra.